Siamo in Villa Comunale, nella Sala Castello, ed è appena terminato il seminario su il sonoro nelle immagini e il rispetto dei diritti d'autore. Volevamo avere un attimo un bilancio su questo seminario e se ha avuto successo di pubblico. Il pubblico è stato molto attento, ci sono state anche un paio di questioni sollevate molto interessanti, anzi io esco da questo seminario con più domande di prima, io dovevo dare delle spiegazioni e invece adesso ho delle domande, dico ma allora questa cosa è stato molto bello, il posto è bello, il festival è bello, sono tutti belli qua, io non mi trasferisco proprio qua, se mi danno una parte, qua mi trasferisco. Solo un'altra domanda, effettivamente l'accoglienza ad Ariano è stata buona? No, è stata buona, è stata ottima, è tutto molto preciso, puntuale, tutte persone molto disponibili. Quindi abbiamo parlato, praticamente abbiamo trattato di temi come il diritto d'autore, musiche per il cinema, musiche per le serie tv, effettivamente il tuo lavoro implica chiaramente uno studio di tutto ciò. Lo studio è una cosa importantissima, infatti alle persone che hanno studiato con me la prima cosa dico studiare, poi a un certo punto ci vuole l'esperienza e l'esperienza se uno è molto giovane la deve acquisire ma deve farne anche tesoro delle persone che ce l'hanno l'esperienza. Non si impara solo studiando perché spesso le figure più complicate sono proprio quelle che hanno studiato tantissimo e tu subito te ne accorgi perché vengono e dicono ah ma io ho pensato che i Hertz e cosa? Aspetti, tu lo sai che cosa vuol dire il microfono che strusce sul manuale, non lo trovi. Nella realtà lo trovi, quindi diciamo l'esperienza serve tantissimo, ma non solo l'Iconitalia, ma questo da per tutto. Noi vogliamo solo farti un ringraziamento, grazie a nome dell'AFTV e se vuoi fare un saluto a chi ci segue sul canale YouTube. Ciao a tutti, seguite il festival AFTV, il festival di Ariano, il cinema che è meraviglioso e seguite un po' pure a me perché mi fa piacere però da lontano perché da vicino mi metto paura. Grazie. Ciao.